Crollo una palazzina nel centro storico di Canicattì. L'edificio di Treppiani era abbandonato da tempo e l'amministrazione comunale aveva adottato alcune ordinanze di messe in sicurezza per il suo recupero. Ordinanze che però sono state disattese dai proprietari residenti da tempo all'estero e che quindi non avevano conoscenza delle condizioni dello stabile. Il crollo per fortuna non ha provocato danni a cose o persone, ma potrebbe avere indebolito le case circostanti. Ecco perché stamattina sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici comunali che hanno transennato la zona e stanno verificando le condizioni degli altri stabili. La zona intorno a Via Trapani è stata interdetta al passaggio delle auto e i tecnici stanno lavorando per rieprire quanto prima la circolazione.